Altri cinque decessi in Molise. Dall'inizio dell'emergenza sono 259 le vittime del coronavirus, 65 solo quelle dall'inizio dell'anno. Un 2021 partito nella maniera peggiore che ha registrato la scomparsa di persone fragili ma anche di pazienti di mezza età senza altre patologie. In queste ore non ce l'hanno fatta un 77enne di Campomarino, un 76enne di Castelmauro che era in terapia intensiva e un 80enne di Campobasso ricoverato in malattie infettive. In questo stesso reparto hanno perso la battaglia contro il virus anche due donne, una 90enne di Santelia Pianisi e una 92enne di Ripalimosani. Un dramma enorme questo generato dalla seconda ondata, periodo contrassegnato anche dei due focolai scoppiati in chirurgia e in medicina al Cardarelli, cluster che sono in via di spegnimento, si legge nella nota diramata dalla regione in queste ore. La pressione sui reparti covid non diminuisce, un paziente di Campobasso è stato trasferito in terapia intensiva, tre i nuovi ricoverati a fronte di una persona dimessa. Complessivamente i pazienti covid al Cardarelli sono 58, 51 nel reparto diretto dal dottor Santopuoli, sette in terapia intensiva. Dai 412 tamponi processati sono emersi 15 nuovi casi con un indice di positività al 3,6%, sette a Campobasso, due a Ferrazzano e Riccia, uno a Termoli, Boiano, Campomarino e Matrice. Sono 54 invece i guariti quindi risultano 1029 gli attualmente positivi, 1485 le persone in isolamento.